Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi vi volevo mostrare appunto la continuazione del speed test di Eulo che avevo fatto in precedenza Eulo 10, l'ho passata a Eulo 0 limiti, ovvero io nella connessione Eulo 10 avevo 30 giga mensili massimi che poi da 10 mega passava a 3 mega e adesso cosa ho fatto? Ho fatto Eulo casa 0 limiti che mi dà connessione fino a 30 mega in download e 3 in upload senza limiti, quindi quanti giga voglio sempre fino a 30 mega che parte da un minimo di 10 mega fino a un massimo di 30 mega quindi diciamo che la connessione a me sta sempre sui 20, 25, a volte 30 però comunque la media sta sui 20, 25 la connessione che comunque è una buonissima connessione, già 20 mega che facciamo moltissime cose in più, che ne so, la 5 mega, la 10 mega già va molto bene anche la 10 mega ma la 20 ovviamente è sempre meglio, sono 10 mega in più, come la 30 sono 20, 20 mega in più da 10 quindi vi mostro subito lo speed test di Eulo se vi siete persi il video di Eulo 10 andatelo pure a vedere dunque, allora, andiamo qua su speedtest.net una cosa che mi piace molto di Eulo a me è che il ping è sempre basso cioè sta sui 10, massimo, ma massimo 18, 20, ma non più di 20 mi è capito delle volte che era 2 o 3 adesso mi sta di solito sui 13, 15 di ping adesso vediamo insieme quanto mi darà l'upload, cioè ho 3 mega vediamo un po' il ping come vi ho fatto vedere il ping è 15 guardate il download il download, guardate, guardate, guardate stiamo sui 30 mega, vedete? proprio 30 mega, poi lì di 31, anche uno in più, guardate eccolo qui vediamo l'upload aspettiamo un attimo, eccolo lì vedete come ci mostra qua? 3 mega, 2 mega, 3 mega comunque sta sui 3 come dice l'offerta, eh proprio precisissimo, vedete? molto preciso guardate proprio precisissimo avere così una cosa con la DSL cioè io me lo sognavo con la DSL avevo Telecom ma cioè io poi sono in una zona dove non prende, no? però comunque quando sentivo amici eh io guarda c'ho infostrada io il ping è una roba micidiale in download mi dicono che c'ho 20 mega poi vado a 5 eh o neanche 5 in upload non ne parliamo proprio non non prende niente io con EOL non ho mai avuto problemi cioè mi dice che ho connessione a fine a 30 mega ma cosa faccio? cioè io ve l'ho già detto vado la velocità minima che ho avuto con EOL da quando ho fatto st'offerta davvero un mese fa è stata 20 mega il minimo e l'upload è sempre stato 3 al massimo 2 qualcosa ma non mai 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 sotto i 2 cioè ma una roba proprio così e il ping guardate è sempre così è massimo magari 15 10 18 19 perché ve lo mostro magari non sarà più 30 un po' meno però vediamo un attimo adesso nessuno sta assorbendo in casa come vi ho detto ping è 18 il download non ne vuole sapere guardate siamo pure a 33 mega vabbè adesso vabbè abbiamo avuto 29 un mega in meno pazienza però l'upload non proprio non non mi sconvolge per niente perché l'upload averlo così c'è proprio da essere contentissimi 3 mega e 3 mega sono vedete 3 mega proprio fissi 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 aspettiamo un attimo 3 mega e 11 3 mega e 16 guardate come avete visto il ping è un po' alzato su 18 ma un ping alto non ce l'abbiamo abbiamo veramente un ping molto basso quindi è una connessione che è specialmente consigliata per persone che giocano usano il gaming online perché col ping basso si gioca meglio ci sono meno lag la connessione è più limpida è più veloce poi ovviamente dipende tutto dal download dall'upload da tantissime cose però dall'upload dal download dipende dalla velocità di internet comunque ad esempio io ho fatto questa offerta qua che mi offriva che offre fino a gennaio fino a 30 mega in download fino a 3 mega in upload e a un costo comunque vi lascio il sito il link in descrizione di eulo.it per i primi 6 mesi e poi aumenta di 10 euro quindi mi sembra sui 24 euro 90 costa eulo eulo 0 casa limiti e poi dopo i 6 mesi costa 10 euro in più per sempre allora facciamo un altro test già questi siamo tanto abbiamo internet limitato nessuno in casa sta utilizzando internet quindi abbiamo tutta banda noi il ping guardate è diminuito ancora siamo a 14 di ping il download invece siamo un po' diminuiti mi sembra perché ci sarà in cella un po' di caos poi sono anche le 9 di sera quindi c'è un po' di caos in cella quindi saranno un po' satura e magari un po' piena ecco abbiamo come vi ho detto mai sotto cioè 20 è la velocità media comunque cioè infatti io ad esempio avevo lo 10 che mi dicevano 10 mega e 10 mega erano mai un po' di meno l'upload invece è sempre 3 oh scendere dai 3 è proprio 0 quanti minuti siamo? oh siamo già 6 minuti allora facciamo ancora un test il ping avete visto che è sceso ecco qua vabbè il ping siamo a 23 pazienza comunque niente di male il download appunto purtroppo sì siamo sui 21 22 mega diventano più pieni l'upload siamo sempre sui 3 come al solito il ping ragazzi io non lo faccio sempre a questi speed test però il ping io il ping più alto che ho visto è adesso il 23 perché di solito stava sui 18 20 ma comunque un ping fino a 25 30 non è male anche un po' di più non fa niente facciamo un altro test e poi concludiamo lì allora vedete il ping è sceso di nuovo 17 ecco qua la connessione sta salendo di nuovo in download siamo di nuovo a 30 mega quasi 27 per esattezza 25 i 20 mega comunque ci sono sempre 25 mega in upload sarà sempre 3 come al solito vediamo un pochettino eh sì appunto siamo sui 3 mega come al solito boh io concludo col dire che comunque secondo me questa connessione la posso consigliare a tutti soprattutto dalle persone che non prendono in certi paesi che non prendono perché non arriva la DSL per vari motivi perché questa qua è una connessione non è non sono altre connessioni che adesso io non vado a citare perché comunque non voglio per carità non voglio dire che certe connessioni non sono buone però ci sono delle connessioni simili a Eolo tipo non lo dico perché non non mi sembra giusto dirlo che dicono guarda ti diamo 20 mega e poi internet non va dello stesso tipo che funziona a Eolo ovvero ondia radio ovvero wifi ovvero tramite parabola che non è parabola che che prende satellite della terra soprano di noi ma ci sono dei ripetitori in certi punti che potete vedere se avete un ripetitore verso casa vostra andando su eolo.it che vi lascio slash copertura comunque digitate su google eolo spazio copertura spazio dicono la barra spazzatrice quella della tastiera e niente potete tranquillamente vedere la vostra se c'è copertura nella vostra zona semplicissimamente e niente io sto connessione ve la ve la consiglio assolutamente perché sono secondo me sono uno dei servizi più seri che ci sia perché comunque vi dice guarda ti diamo fino a 30 mega mi va a 25 mega punto 15 oppure 20 mega punto qualcosa cioè per me sono persone serie non come certe persone che ti dicono vai a 20 mega poi vai a 1 mega questo mi fa veramente inca come l'upload ti dicono vado e vai a 5 mega poi vai a 0 virgola qualcosa perché cioè non esiste una connessione che l'upload sia sia sempre delle migliori per carità magari magari ci sarà qualche connessione che ne so fast vodaf magari vanno bene però in zone dove non prende la DSL c'è questa connessione qui che comunque io ve la rascensita secondo me è una delle migliori poi cavoli vostri fate quello che volete cioè per carità io non sono uno sponsor faccio solo i nomi di euro così così perché cioè mi piace condividerlo che è una buona connessione poi non altro non vengo pagato per fare delle per recensire però è solo una cosa che piace a me per far sapere alla gente che EOL funziona bene ecco e dimostrando appunto tramite questo comunque io vi lascio ci vediamo a un prossimo video facciamo l'ultimo speed test e poi vi saluto ecco qua 13 di ping connessione sui 25 24 anche 26 27 ecco qua l'upload siamo sui 3 come al solito 3 mega vi avviso già che nel titolo potrebbe darsi che metta EOLO recensione speed test EOLO speed test EOLO casa zero limiti speed test EOLO cioè non so io penso che metterò speed test EOLO 30 poi dipende vedrò un attimino cosa mettere allora con questo video concludo ci vediamo alla prossima puntata in cui penso che farò qualcosa di elettronica ci vediamo al più presto ciao a tutti ragazzi statemi bene ciao ciao a tutti Grazie a tutti